Ogni anno, il 7 dicembre, nel giorno di Sant'Ambrogio, vengono consegnate 15 medaglie e 20 attestati a personalità e associazioni milanesi che si sono contraddistinte per il loro impegno nell'ultimo anno, scelti dall'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale di Milano. Il Regolamento per la concessione delle civiche benemerenze afferma che il Comune di Milano interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene essere compreso tra i suoi doveri anche il necessario compito di addittare alla pubblica estimazione l'attività di tutti coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola e dello sport, abbiano in qualsiasi modo giovato a Milano, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni. Vi sono due categorie di ambrogini d'oro, medaglia d'oro e attestato di civica benemerenza. Dal 1925 ad oggi gli ambrogini sono circa 5.800.